Gli effetti che hanno le parole, gli effetti che hanno storie come queste. Allora, adesso immaginiamo, vi prego, datemi questo tempo, immaginiamo di avere di fronte a noi una ragazza di 18 anni che viene da voi, potrebbe essere vostra sorella, vostra nipote, vostra figlia, viene da voi e vi dice, sai mamma, oggi io sono a pezzi, sono a pezzi perché a scuola c'è un ragazzo, un ragazzo che si crede un grande playboy, allora all'inizio lui ha raccontato che ha avuto una storia con me, e vabbè, e io ho accettato, è passata la cosa. Poi dopo, per condire il tutto e per rendere ancora più convincente la sua storia, ha iniziato a dire che mi ha portato a letto, che siamo stati a letto insieme, e per rendere più verosimile, più credibile la cosa, ha iniziato a dare anche dei dettagli, perché è quello che rende verosimile la storia. Sai mamma, a scuola dicono che, perché lui l'ha detto, che abbiamo fatto sesso nella stanza di scienze, nell'aula di scienze. Adesso tutta la scuola parla di questo, i professori parlano di questo, i miei compagni parlano di questo. Ho capito, ho capito cosa vuoi dire. Quindi quello che voglio farti capire, è una figlia che viene e ti racconta una cosa del genere, e ti dice, sai, io sto vivendo questo mamma a scuola, e quella scuola è il suo, fammi finire, è il suo micro-macro-mondo, ok? Quando succede una cosa come questa, ditemi, io vi chiedo, la vostra reazione sarebbe, di fronte a questa bambina, a questa ragazza, sarebbe di dire, dai, ridici sopra e fatti scivolare tutto addosso, o ti verrebbe invece di dire, mi presenti questo ragazzo, perché ci voglio parlare, gli voglio parlare, gli voglio insegnare che cos'è l'educazione.